È vero, tutto passa, ma tu non sei più la stessa. Siediti al tavolo dove si parla di idee, obiettivi e crescita, non di altre persone. Capisco le persone che non gradiscono la mia franchezza, in fondo, neanche io gradisco la loro falsità. Sei tutti professori di vita, finché non arriva l'interrogazione a sorpresa. La famiglia non è una questione di sangue, è questione di chi ti tiene la mano quando ne hai bisogno. Se ti piace già spagnolo, metti un like, iscriviti al canale, grazie. Gli animali si capiscono senza parlare, gli uomini si parlano senza capirsi. ricordati che tutti possono amarti quando il sole splende e durante le tempeste che capisci ci sono. Chiunque può rendersi è la cosa più semplice del mondo, ma resistere quando tutti gli altri si aspettano di vederti cadere a pezzi. Questa è la vera forza. Sai, le strade difficili spesso conducono a bellissime destinazioni. Gli uomini non sono prigionieri del loro destino, ma sono solo prigionieri delle loro strumenti. Per godere appieno della luce dal sole devi avere prima subito il sonno e il buio della notte. Sai una cosa? Il modo migliore per ottenere quello che vuoi è meritartelo. Forse un obiettivo è la più grande forza umana di automotivazione. essere giovani vuol dire tenere aperto l'oblio della speranza anche quando il mare è cattivo e il cielo si è stancato di essere azzurro. Posso dirti una cosa? Mai correre dietro ad una persona che sta bene senza di te e sprechi fiato per qualcuno che non si fermerà mai ad aspettarti. Soltanto volevo dirti di stare attento all'uomo. Sai? Quando guardo un animale dritto negli occhi non vedo un animale. Vedo un essere vivente. Vedo un amico. Vedo un'anima. Quando guardo un amico. Arriverà il momento in cui mi tolierò tutti i sassolini dalle scarpe. Sei? L'innorante sa molto. L'intelligente sa poco. Il saggio non sa niente, l'imbecelle sa sempre tutto. Guarda bene questa foto, sicuramente capirai il senso della vita. Anche se è un foto, però qui capisci che cosa significa amore puro. Ci lasciano senza mai lasciarci, chi ci ha amato non rispetterà di farlo, sarà in ogni nostra lacrima, ma solo per ricordarci di non smettere mai di sorridere. Se ti piace Just Funny World iscriviti al canale e metterci un like, grazie. Sai, non si goresce mai da ciò che ci manca. Ci si adatta, ci si racconta altre verità. Sapete una cosa? Fare gli stronzi con i poni è facile. Ma attenti, i poni incassati mettono paura. Sai, quando sono triste, mi faccio compagna con la musica. Lei parla e io ascolto. Se vuoi sapere com'è una persona, presta attenzione a come tratta sua madre, un anziano, un cameriere, un bambino e un animale. Tutto il duro lavoro, notte in bianco, alzate presto, verranno ripagate un giorno. Quando puoi aiutare qualcuno, sii grato. Perché la vita ti ha messo nelle condizioni di poter dare e non di dover chiedere. Non abbandonarli mai. Sono così innocenti che pensano che tornerai. Fa male quando stai passando un brutto periodo e hai bisogno di sfogarti. Parlare con qualcuno è un cillo tra il voler sfogarti e il voler non dire niente a nessuno. E nel mentre quindi decidi di affogarti nei tuoi pensieri e entrambi. Lui non capirà mai il perché, dico la catena, e neanche io. Senta, sono nato per stare dove mi sento bene, non per stare dove stanno gli altri. Voglio che tu capisca una cosa. Mi sono innamorata di te. Non perché mi annoiavo. O avessi bisogno di qualcuno. Non perché mi mancava l'attenzione. Non perché ne avevo voglia. Ma perché mi hai acceso qualcosa che non avevo mai provato. Ogni volta che ti guardo negli occhi, mi immagino un futuro con te. Ogni volta che sorridi, mi migliori la giornata. Quindi, non pensare mai che sei solo qualcuno per me. Grazie mille per restare con JustFanIWall. Ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Grazie. Restate bene. Grazie a tutti.